Sono state 20 le persone che hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo per una sospetta intossicazione alimentare. Si tratta, secondo fonti sanitarie, di un docente, una ventina di studenti in età adolescenziale, tutti francesi. Il gruppo fa parte di una comitiva di circa 60 persone partiti dalla Francia alla volta di Roma. Secondo gli accertamenti, i ragazzi che hanno fatto accesso al pronto soccorso avevano sintomi compatibili con una sospetta intossicazione alimentare le cui cause sono in corso di accertamento. I ragazzi pare che prima di partire abbiano consumato un pasto nella loro menza scolastica 48 ore fa, ma ovviamente non è certo che questa sia la causa. Circa 40 le persone che facenti parte del gruppo e che non presentavano sintomi di alcun tipo sono stati momentaneamente ospitati all'interno dell'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo.